Con il numero 7, Cristiano Ronaldo Sì! Bella raga, allora aspetta, ogni giorno me ne trovo una E bella tutti ragazzi, sono Rivo Aldigno e oggi ragazzoli, ebbene sì, sono Cristiano Ronaldo Perché il video dove mi fingevo sfere basta ve lo lascio qua in alto, vi è viaggiato un botto e la reazione di mio padre è stata epica Oggi ragazzi, ebbene sì, papà, sono diventato Cristiano Ronaldo Sono qua in tenuta, Simone 7 va bene comunque, il numero c'è, il numero c'è, ho questo Pallone da calcio, allora raga, ora sono a casa da solo, tra circa una ventina di minuti dovrebbe arrivare a casa mio papà E mi troverai in queste condizioni, ragazzi ci tengo a precisare che se vedete bene qua, le scarpe sono coi tacchetti Penso di star segnando tutto per terra Raga, per questo video voglio 20.000 mi piace Commentate qua sotto con quale altro personaggio mi devo diciamo fingere o comunque fare il video e la reazione di mio padre Commentate qua sotto ragazzi, 20.000 mi piace al prossimo episodio, quindi dai ho anche 15.000 va bene perché mi diverto a farli Ragazzi bellissimo, allora adesso aspettiamo che arrivi e direi che ci siamo, let's go ragazzi Inizierò, io povero Papa Rimo, come mi mette conciato ogni volta Ok ragazzuoli, è arrivato a casa Ora mi metterò a fare il peggio casino per farlo venire in stanza Un like ora, ora Sto rigando tutto Alla piede Bisogna il giro, dribbling Goal 1 a 0 1 a 0 Balla al piede Goal Ma guarda Ma cosa stai facendo Ma smettila, ma sei in casa qua eh Basta Che sei tu vicino sotto Ferma, guarda quei tacchetti guarda Barrata Chiara sta rovinando tutto il parquet Ma questo guarda Io non so che cos'è che ha per la testa Ma cosa ti sei messo adesso Falla al centro Falla al centro Ma possibile che ogni giorno me ne trovi una per farmi scarmare Stai guarda, stai guarda Mettila con quel pallone Smettila Palla piede Tira via le scarpe che rovini tutto il parquet Basta Non va Simone Simone Dammi retta Ascolta un attimo Va che te lo buco quel pallone Basta Senti che rumore che fa Andiamo giù Andiamo giù Cosa fai giù Andiamo giù Crossbar Challenge Saluta Saluta Crossbar Challenge Basta Simone Ragazzi Andiamo giù adesso in cortile Crossbar Challenge Ma cosa ti è preso per la testa in questi giorni Simone Cosa ti è preso Mamma mia Chiara Tutti giorni ce n'è una qua adesso Adesso col pallone Fermo Ma che se spacchi qualcosa col pallone La vuoi smettere Guarda tutti i segni dei tacchetti Tirati via quelle scarpe Io non me Un bugato Rete 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 Smettila di urlare Ma sei fuori Ci vediamo giù ragazzi Basta Ok ragazzi Ci siamo Papà Allora Ragazzi Scartaggi Tiro in porta E passaggi Ma come scartaggi e tiro in porta Dai Vai in porta Ma siamo in condominio qua Vai in porta Come in porta Ma in porta La vedi la porta è da là Dal palo ragazzi La porta è dal palo di là Al palo di là Vai 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 Calcio piazzato Cristiano Ronaldo Allora papà Faccio il tiro al Cristiano Ronaldo Quindi così Piede sinistro Da qua 1 2 3 Passo laterale Ma dov'è la porta? Piedi in posti qui Sì Dai Piano eh È andato È andato via Ma era gol? Sembrava di sì Palo? Palo o gol? Tira più piano Perché se la palla va di là Se la palla va di là Se la palla va di là La vai a prender tu Hai capito? Non siamo al campo di calcio C'è il vetro C'è il vetro C'è il vetro là eh Sì no è tranquillo Attenzione Adesso Mia mamma sta riprendendo ragazzi Ciao ciao Sì ma c'è il vetro là Scartaggio Eh dai 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 Oh Oh 1 a 0 per te dai Adesso proviamo Dobbiamo fare un calcio di rigore dai Calcio di rigore Aspetta Da qua da qua Aspetta eh Mi posso anche buttare Attenzione ci sono anche dei vasi dietro là eh Non tirare alto eh Vai E c'è qualcuno adesso a dire Dai basta ragazzi Qualche skills? Dai Guarda adesso perché cosa chiedi che sono capace di fare? Fammi provare a farla a me guarda 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 Vediamo questa capra ignorante Adesso vediamo eh Provo eh Vai Aspetta guarda Ci sto nel zanzare Pallonetto Pallonetto No che va di là Scaletto Lo sta bene Piano 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 Dai Facciamo Allora Adesso facciamo Scartaggio L'ultimo scartaggio Fai la Veronica Scartaggio Attenzione dietro ragazzi Ho giocato per nove anni a calcio Ho giocato per nove anni a calcio Eh Pico Pico ho finito malissimo Dai Adesso fai il cuore e poi non salta il corso No guarda che c'è la signora Simone Ragazzi 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 Prima è tutto Allora Aspettate un attimo Solo una cosa Rimodini Allora Ieri mi ha fatto sfera e basta Oggi mi ha fatto Cristiano Ronaldo Questo di notte Se ne sta inventando Uno dietro l'altro Mi raccomando Ragazzi Commenti No mi raccomando Davvero non ne posso più Perché lui di notte le pensa e di giorno le fa